Innanzitutto, se posso permettere cominciando, siamo in un bellissimo luogo e credo che sia un luogo particolarmente adatto per parlare di questi temi. Volevo partire da una citazione. Accanto alle poche grandi imprese abbiamo circa 6.000 medie imprese molto spesso cresciute dentro i distretti attuando processi di verticalizzazione e di internazionalizzazione. Che rappresentano la vera ossatura del capitalismo italiano, una struttura intermedia di importanza essenziale. Allora, negli ultimi anni il dibattito si è spostato sul chiedersi se questa ossatura è ancora in grado di competere nel mercato globale. Essere piccolo significa essere flessibile, molto specializzato, ma può essere un elemento, diciamo, una criticità di fronte ad un mercato che diventa globale. Se pensate a quello che è accaduto negli ultimi anni e alla, diciamo, la crescita di, in varie parti del mondo, anche in Italia, meno che in altre parti, delle start up, quindi di piccole imprese fortemente innovative, beh, in fin dei conti l'Italia aveva già il suo tessuto delle start up, che è rappresentato dalle nostre micro e piccole imprese. Il tema è se e come questo tessuto riesce ad affrontare un mercato globale dove l'innovazione è un fortissimo elemento di competitività e i cambiamenti del mercato oggi sono estremamente rapidi. Io credo che sia questo l'elemento che maggiormente caratterizza il periodo storico che stiamo vivendo, che alcuni definiscono come una rivoluzione, come la quarta rivoluzione industriale. C'è un elemento legato alla globalizzazione e quindi, diciamo, che richiama la dimensione dello spazio, che oggi si è accorciato, a volte annullato, la dimensione spaziale, ma secondo me non è questa la caratteristica maggiormente rilevante del periodo storico che viviamo, ma è la velocità delle trasformazioni in atto. velocità che sono così, le trasformazioni sono così rapide, che è difficile, se non si è sufficientemente attrezzati, è difficile riuscire ad adattarsi al mercato che cambia. La rete di imprese è una risposta, la rete di imprese può consentire alle piccole, alle micro, alle piccole, alle medie, di superare gli ostacoli che derivano dai limiti dimensionali e raggiungere quella massa critica che permette di competere e con ciò salvaguardando, a mio avviso, l'individualità e la specificità, la flessibilità che hanno queste realtà. E quindi questo può significare incrementare produttività, competitività, condivisione di conoscenze e competenze, sviluppare potenzialità innovative, dinamicità sul mercato, facilitare l'inserimento in nuovi mercati, certificare la qualità del proprio processo produttivo, razionalizzare i costi di gestione. E la rete di imprese, secondo me, è uno strumento che genera valore per le aziende che vi partecipano e quindi poi sviluppo per il territorio. E io penso che lo sviluppo del territorio sia una delle chiavi di lettura della giornatoria Erna e lo dimostrano gli organizzatori della giornata, il Comune di Rimini, l'assessorato e il Corre Gazanelli, che ringrazio per avere promosso la giornata e con l'obiettivo di portare qua a Rimini professionisti che operano sul campo a confrontarsi su un tema così rilevante, tema che affronteremo a breve anche col sindaco con cui mi incontrerò fra poco, avremo una conferenza stampa per presentare un nuovo protocollo tra Comune e Università che è centrato su vari temi ovviamente, ma uno di questi temi che sta a cuore a entrambi è come possiamo supportare lo sviluppo del territorio. L'aspetto che citavo prima e che vorrei richiamare è il tema dell'innovazione e come questo si coniuga in un tessuto di micro, piccole e medie imprese. Secondo me la sfida sta qua e ovviamente adesso parlo dal punto di vista dell'università, su questo territorio noi abbiamo un piano di sviluppo per portare altre competenze, potenziare quelle che abbiamo in più ambiti perché diciamo al di là del ruolo importante che un'università può generare sul territorio in termini di competenze in un'economia come quella che viviamo attualmente che di fatto è basata, la competitività dei territori saranno sempre di più basati sulle competenze. Io penso comunque che il vero vettore di innovazione all'interno del tessuto produttivo non siano i docenti, non siano i ricercatori ma il vero vettore di innovazione siano gli studenti. Gli studenti che si formano, acquisiscono competenze e poi portano queste competenze sul territorio e lo fanno crescere. E da questo punto di vista e se leggiamo la possibilità che offre un insediamento universitario anche in termini di innovazione veicolate dai propri studenti credo che questo possa essere un elemento che porta innovazione all'interno di un territorio e di imprese che hanno anche dimensioni diverse. Anche qui la possibilità di lavorare in rete ovviamente agevola a questi processi. Per cui al di là dell'impegno che mi faceva piacere confermare dell'Università di Bologna a affiancare il comune, il territorio le imprese che ci sono a crescere per quello che possiamo fare noi vi ringrazio ringrazio gli organizzatori e vi ringrazio anche per avermi invitato a chiudere la giornata la mattinata di oggi. Grazie.